Plastica compostabile di origine vegetale. Cos'è? La plastica è un polimero con una struttura chimica a forma di catena, composta principalmente da atomi di carbonio. Questi atomi sono presenti negli organismi di origine vegetale e animale, come anche nel petrolio, che deriva a sua volta dalla decomposizione di organismi vegetali fossilizzati centinaia di milioni di anni fa. I polimeri possono essere naturali, come la cellulosa delle piante o l'amido del mais, e in questo caso sono tutti biodegradabili, oppure sintetici, quando sono prodotti dall'uomo. I polimeri sintetici possono essere a loro volta di origine fossile, quando il carbonio proviene dal petrolio, come per la plastica tradizionale, generalmente non biodegradabile, oppure di origine rinnovabile, chiamati biobased, quando il carbonio proviene da organismi vegetali. Per limitare la dipendenza dal petrolio, i ricercatori europei hanno sviluppato polimeri contenenti carbonio di origine vegetale, che deriva da amido, olio, zucchero, cellulosa e, a breve, da rifiuti organici o alghe. Anche alcuni polimeri sintetici possono essere biodegradabili, a prescindere dal fatto che siano biobased o meno. Vediamo perché. La biodegradabilità di un polimero non dipende dall'origine fossile o vegetale del carbonio che lo costituisce, ma dalla sua struttura chimica. Se i microorganismi che vivono nel terreno o nel compost riescono a rompere le catene del polimero, a scomporle e nutrirsene, allora il polimero è biodegradabile. La plastica tradizionale non è biodegradabile perché è stata progettata appositamente per impedire ai microorganismi di spezzare queste catene. Ma attenzione! Esistono degli additivi che possono frammentare chimicamente queste plastiche. Oggi sono vietati perché i frammenti di plastica diventano solo più piccoli ma non si decompongono, accumulandosi quindi nell'ambiente. Per poter evitare rischi di contaminazione ambientale da accumulo di plastiche tradizionali e ridurre l'uso di carbonio da fonte petrolifera, sono stati sviluppati nuovi polimeri biobased, compostabili e biodegradabili e sono state introdotte delle normative internazionali per certificare e quantificare la presenza di carbonio di origine vegetale, la atossicità e la biodegradabilità in funzione dell'applicazione, compostaggio industriale, domestico oppure per il suolo agricolo. Come possiamo riconoscerli? Grazie ai loghi presenti sui prodotti Per il compostaggio industriale Per il compostaggio domestico Per il suolo Oggi possiamo trovare sacchetti per frutta e verdura, sacchi biodegradabili certificati per i rifiuti alimentari destinati al compostaggio industriale o domestico e teli da pacciamatura in plastica biodegradabile certificati per uso agricolo Un corretto uso vuol dire anche un corretto fine vita È importante destinare questi prodotti all'ambiente per il quale sono stati sviluppati e certificati o in alternativa è consigliato il compostaggio industriale in quanto garantisce di avere una biodegradazione in condizioni controllate Questi nuovi polimeri hanno proprietà del tutto paragonabili alla plastica tradizionale Limitano la nostra dipendenza dal petrolio e rappresentano una soluzione utile, più sostenibile e in linea con la raccolta differenziata, il compostaggio dei rifiuti alimentari e le pratiche agricole Interessante, no? Interessante, no?